Le 20.45, Stadio Antemio Franchi, Montepaschi Arena Siena. A essere una su indicazioni del Siena, vende note le modalità di vendita dei tagliati del settore ospiti per i propri deposi. Prevendita di 10, dalle ore 10, le ore 16, fino alle ore 19, domenica 12 febbraio, le ore 12. Punti vendita, ricevitorie della rete di vendita, rischio automatica, biglietteria, calcio ospiti, abilitate sul territorio nazionale e consultabili sul sito www.listicle.it. Prezzo per 25 settori ospiti, modalità e limitazioni. A vendita dei biglietti, settori ospiti e attenzioni sul stadio, deputata residente della regione Marzio, se non tutte le mani, della Estero Magrassi Village. Si ricorda che l'ottemperanza dell'evento di disposizione di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita. Ed è pertanto assolutamente sconsignato le casse a siena per la gara, senza aver preventivamente acquistato il biglietto d'ingresso per quel settore, con le modalità sovredescritte. Ulteriori informazioni sulla gara sono riferibili sul sito www.accicl.it.